Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Pipilì in direzione mare ci sono due chilometri di coda per incidente tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno. Sempre in direzione mare per lavori un chilometro di coda tra Firenze Scandici e Lastra Assigna e tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo-Fiorentino. Sulla Statale 1 Aurelia, all'altezza del chilometro 283, corsia di marcia in direzione sud chiusa tra Rosignano e Cecina Nord. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno per lavori nei pressi dello svincolo di Pietraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!